La seconda edizione di Dialogarti, questo festival nato nel giro di un mese e mezzo l'anno scorso improvvisamente. Perché Dialogarti? Perché noi del gruppo 77 da tre anni a queste parti abbiamo fatto circa una settantina di eventi in giro per l'Italia. Siamo arrivati al Festival Mondiale di Letteratura di Cork in Irlanda, Festival Letteratura di Mantova, Festival Virgilio di Poesia. E abbiamo sempre cercato di andare un po' controcorrente a quello che era il modus vivendi e il modus operandi di certi ambienti accademici. Cioè di portare la poesia alle persone anziché cercare sempre di tenerle distanti. E facendo questo l'abbiamo sempre fatto avvicinando anche altre forme artistiche alla poesia. Dialogarti non è altro che la naturale conseguenza, il naturale conseguimento di tutto questo nostro lavorare per la poesia e con la poesia. Mi piaceva che nello stesso luogo potessero essere ospitati differenti forme artistiche in modo proprio da dialogare. Perché uno dei miei pensieri era sempre di essere un po' stanco di questa cosa che i musicisti parlano con i musicisti, i poeti parlano con i poeti, gli imbianchini con gli imbianchini, i macellai con i macellai. E non c'è mai uno sguardo altro, una condivisione di intenti. Il fatto di essere ospitati in questo magnifico luogo mi piace anche che sia riconducibile al fatto che la Cirenaica ha sempre avuto questa valenza di condivisione. Cioè in Cirenaica ci sono sempre stati, nonostante la natura popolare di questo quartiere, ci sono sempre state le villette degli imprenditori e le case popolari. Il cinema a luci rosse e a 200 metri il cinema parrocchiale. Vito, la trattoria più famosa di Bologna, presente in tutte le guide dove si riunivano tutti i cantautori e anche dei posti dove c'era invece solidarietà. E quindi questa cosa è sempre stata quest'anima del piccolo paese dove tutti si scendevano nello stesso cortile e uno portava la palla, uno portava le figurine, uno portava la bicicletta e qualcosa da fare insieme si trovava sempre. Questo è un sunto di questo modo di stare insieme, anche perché anche se viviamo in uno stato quasi quotidiano di perenne conflitto, abbiamo sempre conflitti, io credo che solo dall'incontro con qualcun altro si forma un altro sguardo e soprattutto si forma il pensiero. Grazie Alessandro. Sì, diciamo che l'anno scorso ero qui, è stato molto bello, molto fecondante direi, e quest'anno non potevo esserci però ho trovato il modo di mettere il mio zampino facendo una proposta ad Alessandro e chiedendogli perché non facciamo questo dibattito sulle nuove tecnologie e la poesia. E il motivo qual è? Il motivo è che io sono un tecnologo, quindi vivo un po' questo mondo della tecnologia, conosco i trend, però mi interessa anche molto in effetti il mondo dell'arte. E c'è un trend in effetti ultimamente legato al fatto di utilizzare invece del canale visuale classico anche il canale audio nelle applicazioni, perché l'audio si sposa molto con il vivere moderno, perché ti accompagna, un po' come la radio essenzialmente. Allora, mi è venuto in mente, infatti qualche anno fa, e poi quest'anno diciamo avrà la sua esecuzione, un'applicazione che si chiamerà Poetry, per utilizzare diciamo l'audio, quindi la lettura di poesie lette o dall'autore o da un lettore molto bravo, e collocate, geolocate, quindi collocate all'interno di una promenade, quindi di una passeggiata dentro una città, chiaramente penso a Bologna, e quindi diciamo poter fare dei percorsi dentro questa città, fermarsi in alcuni punti e sentire una poesia di qualcuno che l'ha composta in quel luogo lì, per quel luogo lì. Questo per portare diciamo la poesia ad avere un, come dire, più dimensioni, più dimensioni emotive, e quindi dare un'emozione e un messaggio forte. Quindi da questa diciamo idea di questa applicazione è nato un po' un dibattito più esteso su, ma l'artista poeta si sente in qualche modo osteggiato, minacciato dalla tecnologia, oppure invece questo può essere un modo per dare più diffusione e dare una maggiore cassa di risonanza a quello che fa. Perché è molto bello leggere le poesie, però per esempio per me è bellissimo ascoltarle, perché senti l'intenzione. L'intervento di Enmedia è già al secondo anno come media partner, ha raccolto, vorrei dare un po' di numeri, circa 40 contenuti tra il 2015 e il 2016, organizzandoli all'interno di un palinsesto che è visibile in streaming continuo sul canale youtube di Enmedia.org che racconta quello che è stata l'edizione precedente e racconterà nel futuro quello che è l'attività attuale. Questi contenuti hanno permesso a un insieme di persone di valutare che cosa è avvenuto effettivamente, di spezionarlo nel profondo e di iniziare a dialogare, anche se in una modalità apparentemente esterna o un po' più polarizzata sullo strumento, quindi sulla raccolta della telecamera come macroscopio, portandola poi all'interno del gruppo 77 e del team di lavoro, centrando sempre di più quelle che sono le attività future. Tanto che, dico banalmente, abbiamo dato vita a un oggetto che potremmo chiamare tele dall'olio. Io conosco Alessandro da tanto tempo, so quanto impegno e passione mette tutti nel suo lavoro, quindi noi rappresentiamo un po' il tessuto lavorativo e crediamo che comunque siamo felici di apportare il nostro aiuto nell'organizzazione di questi eventi perché crediamo che sia molto importante la cultura innanzitutto e anche a livello, diciamo così, è sicuramente una cassa di risonanza importante, a livello anche territoriale, insomma, saranno sicuramente tre giorni piacevoli e fondamentalmente noi siamo felici di poter aiutare. Qui sono presente in due vesti, la prima come membro del gruppo 77 dal 2013 e appunto come membro del gruppo 77 ho partecipato a molti degli eventi che sono stati realizzati e che sono stati ideati da Alessandro. Ad accompagnare tutti questi eventi ho sempre cercato di unire la parola scritta che potesse rimanere al pubblico e noi infatti con il gruppo 77 abbiamo ideato le edizioni folli che sono delle piccole edizioni cartacee che diamo in dono al pubblico che viene a vederci. Da edizioni folli, diciamo, è nata l'idea di lasciare qualcosa alle persone che intervenivano e che venivano ad ascoltarci, a vederci, che potessero essere proprio unite agli eventi, quindi agli spettacoli che facciamo. In particolare nel corso di uno degli ultimi spettacoli che abbiamo creato, che è Poeros, la sensualità nelle parole della poesia, abbiamo incontrato, come spesso succede con le cose che facciamo, delle altre persone, fra cui appunto Alessandro Canzian, che è il fondatore, l'ideatore della Samuel Editore, è una casa editrice di Pordenone. Lui si è appassionato molto al nostro modo di portare la poesia e a questo spettacolo e ci ha proposto una pubblicazione che è appunto Poeros ed è il primo libro del gruppo 77 edito appunto da Samuel Editore. È una cosa molto bella, ci tengo a sottolinearla perché per la prima volta, e questo sottolinea anche lo spirito proprio di tutte le attività che il gruppo 77 fa, per la prima volta, come autore di un libro, non c'è un singolo autore, ma c'è un gruppo. Quindi è proprio l'idea del lavorare insieme, del creare qualcosa insieme. Successivamente a questa edizione, ho avuto la proposta da parte di Samuel Editore di dirigere una collana, che è la collana ai folli e quindi sono molto contenta di poter partecipare proprio come sponsor attraverso Samuel Editore, la collana ai folli, di un festival come Dialogarti. L'ultima cosa che voglio dire è proprio questa. Dialogarti ha un grande spirito dietro di sé che lo origina, che deriva proprio dall'idea di Alessandro, che è quello di collaborare, cioè di fare qualcosa insieme. All'interno di queste stanze tutte le arti dialogano tra di loro ed è questo proprio lo spirito fondante di questo festival. E quello che Alessandro voleva creare direi che ci è pienamente riuscito sia l'anno scorso che quest'anno. In tempi come questi, in cui la poesia di solito vive all'interno di ambiti molto chiusi, sempre privati, di egocentrismo, di sponsorizzazione soltanto del proprio ego, vedere che la poesia si fa in un certo senso un po' da parte per permettere alle altre arti, per ospitare le altre arti, direi che è un messaggio molto bello, una cosa molto bella. Grazie a tutti. Se vogliamo bere qualcosa, dopo di là beviamo. Se invece volete andare e scappare, scappate. Grazie a tutti.